Come rinnovare una scala? Livello di difficoltà? Un martello. Soggetta a continue sollecitazioni, la scala può rovinarsi. Pulita, levigata e vetrificata, tornerà come nuova. Serviranno nastro per mascheratura, uno smacchiatore per legno, lana acciaio 00, foglio abrasivo, eventuale vernice per legno del colore desiderato, protezione antimacchia o fondo turapori, un vetrificatore, un decerante, un antitarlo, stracci, alcol denaturato e guanti da lavoro. Dobbiamo avere a portata di mano una levigatrice orbitale, una levigatrice per angoli, un aspiratore, una bacinella, pennelli piatti. Dobbiamo prevedere l'uso di un respiratore, occhiali di protezione e guanti impermeabili. Disincrostazione efficace. Passiamo l'aspiratore. Su una cera vecchia, applichiamo un decerante seguendo le istruzioni e lasciamo asciugare. Trattiamo eventuali macchie con uno smacchiatore per legno. Prima levigatura. Applichiamo sulla levigatrice il foglio abrasivo medio a grana 80. Cominciamo dall'alto e procediamo nel senso delle fibre del legno, sostituendo l'abrasivo quando necessario. Usiamo anche una levigatrice per angoli. Aspiriamo la polvere e passiamo uno straccio umidificato con alcol denaturato. Seconda levigatura. Ripetiamo l'operazione con un foglio abrasivo a grana fine, da 100 a 120, e rimuoviamo la polvere. Trattare. Se sul legno sono presenti tracce di parassiti, applichiamo un antitarlo con il pennello. Possiamo approfittare del legno nudo per applicare un nuovo colore, seguendo le istruzioni del produttore. Fondo protettivo. Il fondo indurisce le fibre del legno e chiude i pori, rendendo lo stagno. Applichiamo il fondo con il pennello piatto nel senso delle fibre. Cominciamo dall'alto e scendiamo. Lasciamo asciugare per il tempo indicato e sgraniamo la superficie con la lana acciaio nel senso delle fibre. Strofiniamo senza premere, solo per migliorare l'aderenza. Aspiriamo per evitare che i residui producano della ruggine. Esistono due tipi di vetrificatore, a solvente e ad acqua. Quelli a solvente asciugano più lentamente. Per utilizzare la scala durante i lavori, procediamo a gradini alternati, contrassegnati con il nastro per mascheratura. Prima mano. Mescoliamo il prodotto per renderlo omogeneo. Evitiamo le correnti d'aria per garantire un'asciugatura uniforme. Lavorando contro luce, applichiamo il prodotto in abbondanza con il pennello. Incrociamo le passate e terminiamo nel senso delle fibre per distribuire bene il prodotto. Seconda mano. Lasciamo asciugare per il tempo indicato e levighiamo delicatamente con un foglio abrasivo a grana 120. Rimuoviamo la polvere. Applichiamo la seconda mano come la prima. Con il vetrificatore ad acqua, possiamo utilizzare la scala già dopo 12 ore, anche se la massima durezza e resistenza si ottengono dopo 24 ore. Con la giusta cura, la scala è pronta a riprendere servizio per molti anni.